La direzione del settore antimafia di Palermo ha delegato il comando provinciale dei carabinieri all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Palermitano nei confronti di 12 indagati ritenuti a vario titolo responsabili dei reati associativi e concorsuali finalizzati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti a Palermo e nella provincia di Agrigento e Caltanissetta. 10 vanno in carcere, 2 ai domiciliari in manette, Ottavio Abbate 53 anni, Antonino Augello di 43 anni, Carmelo Di Marzo 27 anni, Vincenzo Di Pasquale 37 anni, Claudio Leto 41 anni, Andrea Licci 33 anni, Armando Lisi di 35 anni, Salvatore Luisi di 31 anni, Emanuele Mazzola di 37 anni, Gaetano Musicò 40 anni, Salvatore Provenzano 50 anni e Domenico Sollami di 45 anni. L'indagine culminata nell'operazione Blanco rappresenta una ulteriore attività investigativa sviluppata dal reparto operativo, il nucleo investigativo Carabinieri di Palermo nei confronti di esponenti del mandamento mafioso di Porta Nuova. Il suo nucleo familiare ricostruiscono dal comando provinciale dei Carabinieri e da decenni molto influente nelle dinamiche mafiose sviluppate nei quartieri palermitani della Calza e di Borgo Vecchio, tanto che alcuni suoi componenti hanno rivestito ruoli di vertice all'interno delle rispettive famiglie mafiose di Palermo, di Palermo Centro e Borgo Vecchio. Tra appostamenti e intercettazioni, gli investigatori sono riusciti a individuare quella che considerano una vera e propria associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base e proprio all'interno della Calza, all'interno della quale Abbate avrebbe ricevuto il supporto di Antonino Augello, Gettano Musicò ed Emanuele Mazzuola, quest'ultimo legato ai rapporti di parentela e di vicinanza con esponenti del mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù. Loro tre si sarebbero occupati del trasporto della droga fuori dai luoghi dello spaccio, della raccolta di denaro dopo le singole cessioni e del reperimento di strumenti necessari come le schede telefoniche intestate a sconosciuti. Gli sviluppi investigativi sono serviti inoltre a documentare la consistente attività di spaccio condotta da Mazzuola e dal cognato Andrea Ricci, si legge in una nota dei Carabinieri, orientata anche nella provincia di Agrigento e Caltanissetta, con l'identificazione dei numerosi clienti. Il coinvolgimento di Emanuele Mazzuola in un'altra associazione per delinquere, finalizzata alla stessa tipologia di reato, le cui figure apicali sono state individuate nei componenti della famiglia Luisi, i quali avevano consolidati i legami con esponenti di rilievo dei mandamenti mafiosi palermitani di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio, localizzando i loro fornitori della droga nelle zone del Napoletano. Le intercettazioni e i servizi di epidenamento permettevano a riscontro dell'attività investigativa l'arresto di diversi corrieri anche sull'asse Napoli-Palermo e il sequestro di ingenti quantitativi di droga.